Musica Nuova IRPEF e taglia alle spese, prima giornata di ritiro in città per la giunta dosi, sul tavolo un piano triennale di razionalizzazione delle risorse e nuove aliquote dell'addizionale comunale IRPEF in crescita per i redditi alti. Cernusca, camion ribaltato, enormi massi sono rimasti sulla carreggiata, l'incidente alle 15 a pochi metri dall'imbocco della nuova statale, tanta paura ma nessun ferito, disagi al traffico. Siccita a pensare a una nuova diga, presa di posizione del presidente della provincia Trespidi sul problema idrico del territorio, o la regione cambia rotta nella gestione dell'acqua o l'invaso resta l'unica via da percorrere, ha dichiarato. 66 milioni di euro il danno provocato nel Piacentino dall'assenza di piogge. IMU e trasporti da rivedere, alcune modifiche sono state richieste alle istituzioni dalle associazioni dei disabili riunite oggi a Piacenza. PD la festa inizia con Berruto, da domani a Bastione Borghetto la festa democratica del terzo settore, il CT della Nazionale di Pallavolo, medaglia di bronzo alle Olimpiadi, inaugura a sorpresa la manifestazione, ancora incerta la presenza di Renzi.